Salve a tutti ragazzi e bentornati su server 2 con finalmente la sfida Peggle Knights, il nuovo Peggle, l'abbiamo acquistato neanche mezz'ora fa E adesso finalmente ci facciamo il nostro primo duello Oh, e dobbiamo scegliere tra due... Due personaggi, io voglio l'unicorno Ma hanno tolto un personaggio, mi sbaglio? Non lo so Hanno tolto un personaggio, cioè il draghetto sta qua prima Vuoi vedere che hanno tolto il gufo? E' questo il gufo Ragazzi hanno tolto un personaggio, mi sa Perché c'è Casuale qui, prima Casuale era sotto E' vero Che vuoi? Unicorno Unicorno C'è la chitarra Il castoro metallaro, ragazzi Gioca subito a un livello criminaloso Vai Mi piace, mi piace quando parto io, sai? Non ho capito sta chitarra Madonna che merda di tiro che ho fatto Però vedi, queste cose ti fanno risollevare il morale 15.000 al primo tiro 18, per favore, diamo a Cesare quel che è di Cesare Oh, vedi che Sinergo non è più attaccato alla palla verde Prima era molto più attaccato alla palla verde Adesso invece... No, cerco di far punti, ma tanto posso spararlo in mezzo a un branco di rossi E non prenderne nessuno, cioè è inutile E' bello che io prima, giocando in avventura, ho fatto dei numeri Però adesso mi sto mantenendo sul vago Beh, bello questo Bello pure il fatto che Tu possa fare un tiro lungo Che io ti toglierò immediatamente perché mi stai sul cazzo proprio In maniera immediata Vedi che ti da di meno 5.000 Non 25.000 5.000 Forse è l'unicorno che moltiplica così tanti tiro No, non credo Secondo me in avventura i... Sono diversi Su, che vuoi fare? Raccontalo al zio Redez Niente, io volevo soltanto... Sì, ma... Ti vedo... Ma che tiro è, porca vacca? Ti vedo estremamente felice, diciamo Che merda di tira che ho fatto io? Lo vogliamo raccontare in giro? Allora, continuiamo Occhio perché io faccio festa estrema Tu non devi fare festa estrema, tu devi fare... Occhio che faccio festa... Guardalo, oddio, se ci riesce Ma perché? Ma perché in nome di Gesù Cristo? Va bene, va bene, va bene, va bene Vogliamo dirlo che questa è la prima festa estrema Donna, è tosta questa festa estrema Potrei fare festa estrema Ma qui ci vuole un tiro ragionato, ragazzi Che cazzo faccio a farlo passare qua? Vabbè, ci provo E ci riesco! E ci riesco! Attenzione! Prima festa estrema di Peggle Knights con... Guarda, guarda come ci va dentro! Preciso! 150 mila! C'hai capito? E' yellato quando giochiamo insieme Quando giochiamo contro c'è un culo che non si affronta Juuuuhu! Uah! Prima partita di Peggle Knights Cioè, io... E' andata piuttosto bene sul finale Cioè, io... T'è piaciuto? No Oh, dai! Tanto! Ah, va bene, eh! Vabbè, come pu... E dai, sciogli Tu, che bello so di bello, dai Che vuoi tentare di fare? Queste cascati là, eh! No, no, no Perché poi faccio punti Non deve fare punti, capito? Donna che merda di tiro rivacci di là Rivacci Con la mammita rivacci Aia! Sì, sì, ragazzi Ha fatto peggio di me Questa è una giornata Da commemorare E porca di una toroi È tornato indietro! Ma meno male! Una volta... No, 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 no! Ho fatto 25.000, va, 20.000 hai fatto Vai di là, mannaggia la puttana! C'è un verde solo Lo vogliamo lasciare da solo Per tutto il giorno? Questa quantina ha fatti! È bello che ha fatto... Focca èreo No, no, no! Guarda, guarda È un sinergo aggressivo Non lo riconosco Lascia stare il verde Per... Ma sì Perché se no sono spacciato Non devo pensarci al verde Io sì, però Perché per me Da due palle Orca madosca, oh! È fatto una merda E meno male Sì, è da 41.000 Ragazzi Questo sinergo È un nuovo sinergo Eh, sì Guarda, guarda Monsignarco che pensa di tire prima di farlo Guarda che è pesante sta cosa Vedi ora, cotto e mangiato 38.44.000 Potrebbe vincerla, ma io fino alla fine non ci credo Basta Meno 25, dicevamo Io non ci credo, e fin quando io non credo Oh, 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 oh Lo facci, perché non ci vai, perché dobbiamo fargli fare questa estrema, perché? Perché tu, sculi Dai, ah, questa te l'ho messo, cosa un piatto d'argento Prendi il moltiplicatore, prendi il moltiplicatore No, è mille punti, non è niente di particolare Perché, insomma Però sono arrabbiato, perché quello mi toccava di diritto Eh, invece te la sei presa in un certo po' 74.47, c'è qualcosa di strano 107.174, dai Come cazzo hai fatto a farne son 74? Eh, perché io prima ho giocato un po' meglio di te Madonna Giochiamo a un nuovo livello Ma non vincero, va, ma gioca a un nuovo livello Tanto è un livello casuale, perché così Ma magari sono pochi i livelli, quindi conviene sceglierli noi Facciamo questo Unicorno forever Beh, io rimango così Ah, va bene, se tu rimani così Eh, porcate, quella mignotta Allora, qui potremmo fare dei bei punti Ma, ma, ma Conviene a fare questa cosa? Conviene sempre seguire il proprio cuore Ma nel tuo caso, non è il cuore che devi seguire E allora hai ragione Tu, per una volta, hai ragione Devo seguire la mia Fonte Madonna, che schifo di tiro che ho fatto Ma questo è uno schifo di tiro Ho fatto schifo È un tiro ottimo Ho fatto schifissimo Hai fatto moltissimi punti È lo stesso È per quello che non l'ho voluto tirare Perché secondo me Ti dava poco Poca emozione, vedi? Infatti non sbagliate Mi piace di merda Però Eh ragazzi Sta andando male Sta andando male Certo, sono in vantaggio di questi 80.000 punti Che sai Però Hai visto come hai evitato tutti i rossi sul suo cammino Quella parla? Per questa volta proprio Hai la mia Come si dice? Guarda È la mia compassione Dai Ma ti credo Eh ma però Si chiede di merda Cioè io non so come Come lo faccio a sta 16.000 Non me lo chiede No io non lo so Probabilmente con il primo tiro che hai fatto Che era molto Nonca ho fatto Vabbè 5.000 punti Ci può stare Che 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 livello di merda Questo È un po' Tutto No Ma così sbagli Sbagli è vero Poglia Ha sbagliato Ho sbagliato ragazzi Ditegli le mani con me Ma tanto io ho già perso Io devo puntare a fare tanti punti È punto a fare tanti punti Così come si dice Evita tutto Però È entrato nella Ma evita tutto Tutto quello che dovrei prendere Lo evita Fermo Tornato indietro No Ma hai visto come ho chiuso Sì ma Ma hai visto quanto ho chiuso bene Ma se uno a un certo punto si arrende no Ma tu non ti devi arrendere Non darla vinta A questa follia Ma che mi hai lasciato Mi hai lasciato La miseria 127 a 224 Ben tornati su Peggle Questa prima partita è stata piuttosto bene Questo Peggle Knights Ci piace A me piace Non lo so Le mappe mi fanno cacare finora Vabbè la prima Tutte Tutte Mi fanno cacare proprio Vediamo Vediamo nella prossima avventura E la prossima avvete E la prossima avventura